ho appena scoperto che non serve assolutamente a niente acquistare della nuova attrezzatura se poi non sei capace ad impostarla ebbene è quello che mi è successo ho utilizzato esattamente mezza giornata di tempo che non so assolutamente dove ho trovato per cercare di effettuare correttamente queste impostazioni ci sarò riuscito non lo so me lo saprai dire tu nei commenti ma veniamo all'argomento del giorno perché quest'oggi voglio presentarti un software assolutamente fondamentale per quanto riguarda la gestione del nostro computer è in grado di fare una serie di operazioni che sono utilissime al punto che una volta per la verità tanto tempo fa l'ho fatto utilizzare ad un mio cliente perché non avevo la possibilità di collegarmi al suo computer né men che meno di andare fisicamente dove lui si trovava per correggere un problema di schermate blu improvvise ebbene grazie ad un report generato con questo strumento che voglio farti conoscere siamo riusciti in 448 ad identificare il problema e a risolverlo anche se purtroppo ha dovuto cambiare cpu e quindi non perdiamo altro tempo e facciamo subito la conoscenza di questo piccolo ma utilissimo coltellino svizzero e se ti senti pronto iniziamo il software che voglio presentarti oggi si chiama libre hardware monitor e si tratta di un utility completissima e in grado infatti di analizzare in maniera estremamente dettagliata ogni singolo aspetto delle risorse di cui dispone il nostro computer e di darci anche un quadro d'insieme molto chiaro in maniera tale che possiamo fare tutte quante le ottimizzazioni che ci servono ma non basta è in grado di realizzare dei report su domanda e anche dei grafici in modo che possiamo fare delle comparazioni e allora andiamo subito a vedere come scaricarlo configurarlo e anche utilizzarlo naturalmente ma prima non dimentichiamoci il nostro rituale apotropaico perché non sia mai che si aderino le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ed eccoci qui senza perdere neanche un altro secondo andiamo immediatamente ad aprire il browser e nel motore di ricerca digitiamo gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato e cioè quello relativo al dominio www.gentiluomo digitale.it facciamo clic per andare ad aprire il sito una volta aperto ci porteremo qui in alto nella sezione downloads e scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama libre hardware monitor nel caso in cui come sempre non dovessi trovarlo ti basterà portarti qui in alto sulla lente di ricerca e digitare ad esempio semplicemente la parola monitor ed effettuare la ricerca premendo invio vedrai che il risultato ti comparirà ignora tutti quanti gli altri che contengono effettivamente la parola monitor ma quello che ci interessa è libre hardware monitor facciamo clic e vediamo che partirà immediatamente il download del file che è davvero molto piccolo ed infatti è stato già scaricato a questo punto clicchiamo su questo pulsante per andare ad aprire la cartella che contiene il file zippato che abbiamo appena downloadato e andiamo a chiudere la finestra del browser al retrostante che non ci serve più quello che invece ci serve è individuare questo file appena scaricato nella relativa cartella farci un click con il pulsante destro e scegliere la voce estrai tutto clicchiamo sul pulsante estrai per procedere appunto con l'estrazione e ci ritroveremo nella cartella download una seconda cartella che si chiama libre hardware monitor meno net 472 chiudiamo la cartella che si è appena aperta perché in realtà ci serve l'altra ed in particolare dovremo trascinare tenendo per muto il pulsante destro questa cartella sul desktop scegliere la voce sposta qui e chiudere la cartella di download che non ci serve più ed ora non ci resta che andare a dare un'occhiata al programmino che abbiamo appena scaricato per farlo apriamo questa cartella appena creata e facciamo riferimento a questo file quello che si chiama libre hardware monitor punto exe per nostra comodità potremo anche trascinarlo sempre con il pulsante destro sul desktop rilasciarlo e scegliere la voce questa volta crea collegamento qui in modo tale da avere un collegamento per lanciare immediatamente questo programma chiudiamo la relativa cartella e facciamo doppio clic sul collegamento appena creato ci verrà richiesto di accettare che il programma apporti modifiche al sistema cosa che confermeremo cliccando sul pulsante sì ed ecco che dopo alcuni secondi si apre la finestra principale del nostro software andiamo un pochino ad ingrandire la nostra finestra in modo da vedere meglio il suo contenuto e diamogli un'occhiata a volo d'uccello quello che troviamo all'interno di questa finestra sono tutti quanti i voltaggi di alimentazione dei vari core del nostro processore i clock a cui lavora ogni singolo core i carichi attribuiti ad ogni core della nostra cpu il carico di memoria ram e di memoria virtuale sostenuto dal nostro pc la quantità di ram utilizzata la quantità di memoria ancora disponibile la quantità di memoria virtuale utilizzata la quantità di memoria virtuale disponibile e andando ancora avanti vediamo i carichi di lavoro a cui è sottoposto il nostro hard disk oppure i nostri hard disk nella fattispecie spazio utilizzato attività di lettura attività di scrittura attività totali e così via andando ancora avanti vediamo tutto quanto il carico di lavoro che riguarda la nostra rete suddiviso naturalmente anche in velocità di upload velocità di download quantità di dati scaricati quantità di dati caricati e così via e ancora nel caso in cui utilizziamo anche una rete virtuale i relativi carichi di lavoro che la interessano insomma un bel quadro sinottico che ci mette in grado di capire come sta lavorando esattamente il nostro computer ma anche se ci sono problemi che lo riguardano ma naturalmente non è tutto infatti se ci portiamo qui in alto sulla sezione file e ci spostiamo sulla voce hardware abbiamo la possibilità di personalizzare la visualizzazione degli elementi che vengono mostrati nella finestra precedente in particolar modo due elementi che non ti ho potuto mostrare perché non sono collegati a questo computer sono i power supplies ovvero i gruppi di continuità di cui possiamo avere delle informazioni utilissime per mezzo di questo programma anche per quanto concerne la loro gestione ed anche il comparto batterie nel caso dei notebook che ci consente di avere una serie di informazioni utilissime riguardanti il carico di lavoro della batteria la carica residua sicuramente ma anche lo stato delle celle e ancora avremo la possibilità se andremo a scegliere invece la voce save report di salvare sotto forma di documento di testo un report che è un riassunto di tutto quello che abbiamo appena letto nel caso in cui come è successo proprio per il mio cliente dovessimo inviarlo ad esempio ad un tecnico cliccando sul pulsante salva all'interno appunto della nostra cartella documenti troveremo un report completissimo di tutto quello che sta succedendo in questo momento sul nostro computer anche molto più completo rispetto al quadro sinottico che abbiamo appena visto ma ancora un'altra cosa interessantissima che possiamo fare con questo programma è la creazione di un grafico personalizzato che troviamo cliccando su view e scegliendo la voce show plot come puoi vedere ci viene mostrato un grafico completamente vuoto e questo perché sta a noi personalizzare gli elementi che vogliamo inserire all'interno di questo grafico come vedi a fianco di ogni voce presente nel quadro sinottico sono comparse delle caselline che possiamo spuntare per andare a personalizzare il nostro grafico ad esempio se utilizziamo il software cpu balance possiamo scegliere tutti quanti i core del nostro pc per andare a vedere come lavorano in questo caso ci accorgiamo che il nostro core numero uno è sottoposto ad un carico di lavoro maggiore rispetto agli altri e personalizzando le impostazioni di un software di gestione dei core potremo andare ad ottimizzare tutto questo tracciato ottenendo quando possibile una linea perfettamente piatta insomma per quanto concerne questo programma il limite e il cielo è la nostra fantasia perché le sue applicazioni e i suoi utilizzi sono letteralmente innumerevoli ma veniamo a noi e ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono condensati in uno soltanto e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima